Signor Orpei, mi scusi, che specie sono questi? Questi sono orsi malesi, che è la box. Questo è il piccolo Peter, il cowboy. Ale Peter, sotto! Ale Peter, la box! Ale! Ale! Ale Peter! Ale Peter, Peter, forza! Gioca tutto il giorno, è molto carino. E il domatore è il suo nipote Massimo? Il mio nipote Massimo, pronto? E gioca pure! Vai via davanti! La, la! Questa noi la chiamiamo la signorina Astri. La signorina perché quando gira sembra un'indossatrice di super. Brava! Così, brava! Come vedete, in ogni esercizio, ogni tanto, bisogna sempre darle il cibo, come premio. Così! Brava! Sì! Astri! Massimo! Astri! Astri! Che età ha questa... Ha cinque anni! Ha compiuto i cinque anni in primavera, perché di solito gli orsi nascono sui primissimi mesi della primavera o gli ultimi dell'inverno. Perciò, in febbraio circa, sta compiendo i cinque anni adesso, insomma. Ma è da molto tempo che è con voi, l'avete presa anche questa da cucciola. Questa è arrivata, aveva due anni. E tre anni circa che è con noi. Ma è molto carina, è brava, una dei pochi animali realmente bravi. Buona e obbediente. Si, falle poi fare la sua passerella, la passerella, falle provare la passerella. Su! In piedi però, diritta, eh! Astri! Brava! Come tutti gli orsi, curiosa, quando trova qualche cosa in terra, una caramella o un pezzettino di zucchero o di pane, subito lei lo va a raccogliere. Su, Astri! Brava! Brava, calzone! Adrista, non sta bene! Andra, come so io, posso! Vai! Scappellotto! Su, vai! Astri! Via, su!